6.000 le persone controllate, circa 800 esercizi commerciali, 30 le persone sanzionate perché sprovviste di Green Pass e 12 per i dispositivi di protezione, nuovi titolari di esercizi sanzionati a Udine e provincia. Questo è il bilancio dell'attività delle forze dell'ordine nell'ultima settimana nell'ambito dei controlli disposti dal Viminale per la verifica della prevista certificazione, oltre sull'esecuzione delle corrette procedure comportamentali e per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Da ieri però verifiche identificate nei bar per gli avventori che consumano anche al bancone, che devono essere muniti di certificazione verde, e sul controllo da parte dei gestori, controlli anche sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione richiesti, dopo il varo delle nuove normative. Intanto il prefetto di Udine Marchesiello ha convocato per domani il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per le 16 con il comune del capologo friulano e a seguire con gli altri comuni per fare il punto sulle prossime festività e sui controlli per la fine dell'anno, in vista delle chiusure delle discoteche e da tenere sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine le feste private.